Buongiorno a tutti, oggi sono per l'ustrazione con alcuni agenti della polizia. Come potete vedere siamo in una zona della strada di Ponte Pizzinu, qui ci sono i resti di un'antichissima cava di pietra, addirittura si pensa che molta della pietra che è stata estratta da qui abbia contribuito a costruire la basilica di San Gavino o i dintorni. Però siamo qui non solo per vedere quanto potrebbe essere bello questo luogo, quanto invece per vedere l'utilizzo che ne facciamo come cittadini. Quindi qui ci sono persone che sistemano casa, che si sistemano il bagnetto, che decidono di abbandonare rifiuti, creando da una parte un danno, diciamo semplicemente anche così, di aspetto, perché disturba l'occhio. Ma anche un danno proprio ambientale, perché qui potete vedere c'è bitume, fusti di qualcosa, giocattoli, racchetta da tennis, tostapane, vetro, una scatola di medicine. E questo è lo sport di alcuni di noi cittadini, che piuttosto che andare all'ecocentro e conferire, perché forse il 90% di questo materiale poteva essere conferito, si preferisce venire qui, buttarlo, e poi noi come amministrazione, quindi noi come cittadini, dobbiamo spendere ancora più soldi per sanare questa cosa. Grazie.